In quel momento chiaramente sedeva all'interno della monoposto più veloce di tutti che era la Red Bull e non era la stessa monoposto che al momento guida se non altro come coefficienti di valori divisi nell'arco della stagione e quindi degli avversari. Questa è una macchina che sta ancora cercando la prima vittoria, che sta ancora cercando una quadratura del cerchio che secondo me non riesce, non riuscirà a trovare nell'immediato anche se poi magari è capace che appunto prossimo weekend verremo sconfessati, però sconfessato dall'ennesima impresa di Vettel in territorio asiatico, quindi di Singapore, però ripeto vedo una Ferrari veramente molto negativa e purtroppo non mi sembra che si stia lavorando neanche in maniera concreta per il prossimo anno. Nel senso lo stanno facendo perché chiaramente lavorano, però non stiano arrivando quelle risposte che anche in previsione del prossimo anno possono far sperare a una Ferrari già tra le protagoniste in partenza. Vediamo delle immagini riguardanti appunto la gara dell'anno scorso, sempre in notturna e Filippo invece tornando sulla pista, proprio la pista è una pista molto lunga, i giri sono molti e questo fa sì che si debba comunque rimanere molto concentrati durante la corsa, quindi è una grande prova anche per i piloti. E poi c'è assolutamente, il circuito è molto tecnico come dicevi te e poi c'è questo discorso chiaramente di correre in notturna che sembra facile. All'ora i 14 italiani invece per noi in Italia. È tutto bello da un punto di vista televisivo, di marketing e tutto quello che ne consegue, però da un punto di vista di guida non credo sia l'ottimale. Anche se c'è un'illuminazione insomma. Sì, beh chiaro, è un pianeta, è una stella a Singapore in occasione di Gran Premio, però. Abbiamo visto in sovraimpressione l'immagine di Hamilton e Rosberg e invece tornando alla gara precedente classifica alla mano possiamo vedere che Hamilton è primo con 250 punti, dietro c'è Rosberg con 248 e poi Ricciardo con 161 punti. Sì, siamo lì e sono due punti di differenza, quindi niente di differenza, nemmeno a dire una gara o cose del genere. È come se partissero da zero quando siamo ormai invece ad un buon punto della stagione. Li vediamo in questa immagine uno di fronte all'altro, come è poi in pista insomma, c'è questo conflitto interno, chiamiamolo così, tra Mercedes. Mercedes ultimamente benissimo Hamilton, ma Rosberg è sempre lì, che martella, che lo segue, che non gli lascia spazio per andare via. Rosberg infatti ha vinto l'ultima gara nel GP di Monza. Esatto, quindi c'è stato un po' un ritorno di Rosberg dopo le varie gare di dominio da parte di Hamilton e qui è anche difficile fare pronostici perché è talmente imprevedibile, è così nullo il gap che non si può capire chi avrà la meglio. Poi stanno nella stessa scuderia, quindi se prima parlavamo magari di una gara in cui serve la concentrazione dei piloti, ma contano molto, soprattutto quest'anno, le strategie. E se consideriamo che comunque la strategia, essendo nella stessa scuderia, è più o meno la stessa, quindi anche lì sono pari. È difficile. Quindi conterà tantissimo il pilota e secondo me anche la sorte, un po' di fortuna servirà. Filippo? Hamilton secondo me è più campione da questo punto di vista, però Rosberg è che ho avuto modo anche di incontrare alla vigilia del GP di Monza, portandovi anche bene l'intervista che io ho realizzato. La prossima volta magari te lo chiederà lui di poterlo intervistare. Bene, anche perché anche in quell'intervista appunto è uscito fuori che Rosberg non ha mai vinto a Monza e lui si sente particolarmente legato al nostro paese, quindi era veramente a caccia di questo successo, quindi oltre che alla classifica ha fatto bene secondo me al morale del pilota. Allora, ripeto, Hamilton è più campione perché è più antipatico, è più, anche più, non verrebbe dire una parolaccia, ma non si dice, è meno simpatico. Ecco, è meno simpatico e quindi rimane un pochino più fuori classe da questo punto di vista. Rosberg è un po' più amichevole, è una persona veramente piacevole con cui parlare, anche perché parla benissimo italiano. E forse è un pochino, sì, a differenza mia, infatti era lui che parlava in Italia e io non cercavo di seguirlo. Detto ciò, Rosberg secondo me ha i mezzi per poter vincere finalmente un titolo mondiale, però il problema è che sulla sua strada è veramente un avversario molto molto complicato. È molto portato per questo tipo di situazioni, cioè Hamilton in queste situazioni secondo me si trova meglio che Rosberg. Sangue freddo. Vedremo nella prossima gara chi avrà la meglio tra i due. Assolutamente. Prima di cambiare argomento e di passare al rallycross abbiamo visto in sovraimpressione l'immagine di Eccleston che è il proprietario della Formula 1 e invece non lo sarà più in quanto appunto ha venduto per 8 miliardi di dollari e quindi la Formula 1 passa dalla CVC alla Liberty Media e rimarrà amministratore delegato per i prossimi tre anni invece, Filippo. Ma allora sì, ha venduto per 8 miliardi di dollari tutto sommato che si sia creato un buon fondo pensionistico Eccleston, ma è un cambio generazionale, cioè la fine di un'epoca molto discussa, sarà la fine di un'epoca perché Eccleston dichiara che... Dieci anni è stato tra l'altro il proprietario. Dieci anni e l'inizio di questa trattativa dovrebbe arrivare, dovrebbe iniziare nel primo trimestre del 2017, poi Eccleston ha dichiarato che gli è stato chiesto di rimanere per altri tre anni come amministratore delegato, nonostante Eccleston abbia 85 anni, non è che sia proprio di primo pelo. Non li dimostra però perché per gestire il circuito ce ne vuole. Io infatti credo questo, lui è sempre stato un personaggio molto discusso, eticamente forse lo è, però è sempre stato un gran lavoratore, cioè nel senso una persona con tutti questi soldi, con tutte queste attività, che comunque vuole ancora rimanere in prima idea, sia a un certo punto subentrano delle ore di onnipotenza e ci posso stare. Però è anche una persona che secondo me nel mondo della Formula 1 ha sempre dato tutto se stesso. Il problema è normale che se poi sei una persona con determinati sfumature, il tutto di te stesso riguarda anche quelle sfumature. Ora che Eccleston abbia fatto il bene o il male della Formula 1 non lo so, economicamente però l'ha saputo a mandare avanti, questo gli va riconosciuto. Federico, due battute? Assolutamente sì, come diceva Filippo, ha saputo mandarla avanti, sono stati dieci anni in cui però è stato al centro di varie polemiche, di varie discussioni e probabilmente lo sarà anche nei prossimi tre anni rimanendo presidente, però essenzialmente a breve si concluderà questa trattativa, il Circus passerà a Liberty Media, però vedremo effettivamente dai prossimi tre anni in poi come cambierà poi nel concreto. Chiudiamo ora l'argomento Formula 1 e in chiusura andiamo a parlare del rally cross, il rally cross che l'ultima gara è stata corsa in Francia, mentre la prossima gara che sarà il prossimo fine settimana sarà e si correrà in Spagna a 20 km da Barcellona. Siamo ormai nella fase conclusiva, anche se non mancano quattro gara. Te le posso elencare se vuoi, il 30 settembre in Lettonia, il 14 ottobre in Germania e l'ultima e quella decisiva in Argentina il 25 novembre. E' prontissima comunque, mattina sottolineiamo. Tra l'altro dicevo, compresa quella di Barcellona ma che hanno quattro gare, quindi siamo fondamentalmente all'inizio del rush finale di questa stagione. In testa c'è ancora Peter Solberg che già da due gare ha ritrovato la testa della classifica. E tra l'altro c'è da dire, scusami se ti interrompo, che è stato anche l'ultimo vincitore della scorsa gara dell'anno scorso a Barcellona e Spagna. Certo, certo. Quindi potrebbe ripetere magari il colpaccio. Campione del mondo in carica, però vale la pena sottolineare una cosa, Solberg non mince dalla prima gara in Portogallo quest'anno. E' tornato in testa al mondiale ma sono quattro gare di fila che non sale sul podio, il che per lui è l'astinenza più lunga da quando è rallycross, in questa sua carriera rallycross. E il suo avversario diretto, Ekstrom, che sta a cinque punti di ritardo in classifica, nelle ultime gare ha fatto ancora peggio di Solberg ed è per questo che ha perso la testa della classifica. I piloti più in forma fondamentalmente sono quelli che arrivano dietro, Christofferson che ha vinto l'ultima gara, Bakkerud che sono quattro gare di fila che va podio, in parte Sebastian Lebb. Il problema però qual è? Che questi piloti hanno iniziato la stagione, Timmy Hansen in primis, che però credo che sia ormai tirato fuori dalla lotta per il titolo, hanno iniziato la stagione con un forte handicap nei confronti di Solberg ed Ekstrom. Questa qua sarà una gara fondamentale perché se uno tra Bakkerud e Christofferson dovesse riuscire a recuperare tanti punti ad Ekstrom e Solberg, allora le ultime tre gare sarà un discorso a tre. Se invece Solberg e Ekstrom dovessero riallungare, allora a quel punto su me le ultime tre gare se la vedranno soltanto loro due per la vittoria del mondiale. Anche perché sono pochissimi i punti che li dividono, esattamente, Solberg si trova a 181 punti mentre Ekstrom a 176. Quindi sono 5. 5 esattamente. Beh essenzialmente il destino è nelle mani di Solberg, non può… E di Ekstrom. E di Ekstrom, ovviamente, però non possono commettere errori, molto appunto dipenderà da questa gara perché poi ne mancano veramente pochissime come stavamo dicendo prima, quindi sta tutto a loro, devono riuscire a comunque mantenere questa testa, a comunque ad accumulare punti e a non commettere sbavature in favore degli avversari. Vedremo quindi questo fine settimana quello che succederà tra i due piloti. Sottolineando che per Solberg sarebbe il terzo titolo mondiale consecutivo, per Ekstrom invece il primo, così come sarebbe il primo anche per chi si è guidato. Fondamentalmente di chi è in lizza, l'unico che ha già vinto il mondiale è Peter Solberg. Filippo ti ringrazio per essere stato qui con noi come sempre. Grazie a te Martina. Ringrazio anche Federico. Grazie a te Martina. E ringrazio anche tutti i nostri telespettatori e come sempre Professione Motori Motorsport. Torno giovedì prossimo, arrivederci e grazie e buona serata.